bentornato guter bentornata avviciniamoci all'installazione di windows 10 è ora il momento di spiegare come creare un supporto di installazione che potrà impiegare per aggiornare il sistema operativo o eseguire un'installazione pulita di windows 10 vediamo quindi come creare il supporto e conservarlo utilizzi successivi quale sono le soluzioni il supporto di installazione che puoi creare o è una pendrive o un dvd che conterrà i file del sistema operativo di tua competenza con un'architettura a 32 o 64 bit la microsoft ha reso semplice il processo di creazione di un supporto tramite un programma di piccole dimensioni che una volta scaricato ed avviato eseguirà una procedura automatizzata e da guidata per alcune scelte la quale scaricherà i file necessari per creare il supporto di installazione qui puoi vedere le dimensioni di questo programma in alternativa è possibile scaricare direttamente il file immagine formato iso che potrai poi masterizzare su un dvd o installare su una pendrive che renderai avviabile per il successivo utilizzo qual è il modo di operare la situazione più rapida è andare su una pagina dedicata dal sito della microsoft link che metterò nelle note dell'episodio e da questa potrai selezionare l'edizione di competenza e la localizzazione in termini di lingua quindi windows 10 e la lingua stessa dopo una conferma avrai presentata una pagina dove visionerai il link per scaricare la versione con architettura a 32 bit o 64 bit naturalmente scegli quella che supporta il tuo processore questi link avranno una durata limitata a 24 ore per avviare il download una nota a margine la troverai in questa pagina scegli quella che ti serve cliccaci sopra e dopo qualche secondo si avvierà il download del file di alcuni gigabyte occhio alla connessione dati se ne possiedi una a consumo perché potrebbe costarti un bel po' dopo un tempo variabile in base alle potenzialità della coppia hardware software in tua dotazione e alla banda otterrai sul tuo pc il file immagine dovrai solo a questo punto masterizzarlo su un dvd e sarai pronto sarà pronta per iniziare la migrazione a windows 10 un'altra possibilità è sfruttare lo strumento di creazione del supporto chiamato media creation tool un supporto che potrà essere impiegato anche per aggiornare pc ma ora vediamo come utilizzarlo per creare il supporto dvd o usb dalla pagina dedicata del sito della microsoft individua il pulsante scarica ora lo strumento e cliccaci sopra dopo qualche secondo si avvierà il download dello strumento media creation tool di pochi megabyte salvano su pc magari sul desktop per un rapido accesso terminato ciò cliccaci sopra due volte rapidamente e partirà il processo di creazione del supporto tutto in maniera automatizzata dovrai soltanto seguirlo per alcuni clic dopo le operazioni preliminari ti verrà chiesto di accettare le condizioni d'uso se vuoi puoi anche leggerle e comunque al termine non dovrai far altro che cliccare su accetta poi dovrai decidere se aggiornare il pc o creare un supporto di installazione per un altro pc come abbiamo detto pochi secondi fa a questo punto noi decidiamo di creare un supporto di installazione per un altro pc questa scelta la potrai eseguire sia se dovrai aggiornare questo tuo pc o anche per trasferire windows 10 su un altro computer fatto ciò clicca su avanti nella finestra successiva trovi già impostate le scelte adeguate per questo pc per il tuo pc quindi puoi senz'altro cliccare su avanti però se invece volessi scegliere un'edizione o un'architettura diversa magari per starlarla su un altro pc deseleziona il segno di spunta da usa le opzioni consigliate per questo pc naturalmente potrai scegliere da questi menu a tendina condizioni diverse dopo di che clicca su avanti un avviso ti alletterà di verificare di aver selezionato l'edizione corretta a consentire attualmente se corretta altrimenti correggi la tua scelta ora decidi se creare un supporto dvd o una pendrive per l'installazione naturalmente in questo caso optiamo per la creazione di un file immagine un file iso che masserizzerai su dvd clicca pure su avanti e scegli dove salvare il file inizierà il download il cui tempo non è preventivabile a download è terminato verrà eseguita una verifica sulla correttezza del file che hai scaricato ed infine verrà creato il supporto di installazione in formato immagine file iso il processo di creazione avrà termine a questo punto premendo sul pulsante fine a meno che tu non voglia masserizzare direttamente la copia su dvd appena scaricato aprendo il masserizzatore integrato in windows se invece volessi creare una pendrive di installazione dovrà essere di almeno 4 gb quando si presenta la schermata del bivio naturalmente scegli unità flash usb seleziona la e clicca su avanti a questo punto replicherai la procedura appena descritta per il download dopo la verifica del file la periferica verrà formattata ed inizierà l'installazione dei file nella tua pendrive al processo terminato avrà la notifica l'unità flash è pronta clicca su fine ed avrai la pendrive in formato avviabile pronta per installare windows 10 anche in questo caso il tempo del processo non è preventivabile qui ti mostro una rappresentazione dopo che la pendrive è stata formattata e al cui interno ci sono i file di installazione per il sistema operativo cioè dell'altro beh sì in realtà esiste anche un'altra strada percorribile per la creazione di un supporto di installazione ma è diversa dalle due precedenti tale procedura creerà un supporto di installazione sì ma apparirà come una cartella nella partizione dove è installato windows nella partizione c per capirci questa cartella potrà avere diversi nomi ma di norma è utilizzata la sigla esd oppure quest'altra mostrata a video esse potrebbero essere cartelle visibili solo attivando la visualizzazione dei file nascosti quindi se vorrai visualizzarli attiva pure questa visualizzazione in essa verranno appunto scaricati i file per eseguire successivamente l'aggiornamento del sistema operativo con il relativo file setup punto exe qui mostrato il file una volta scaricato dovrai cliccarci sopra in quanto avviabile per creare la procedura e qui i dettagli di questo file infatti il processo guidato avverrà con un file scaricato da una pagina dedicata da quella dei download questo programma è chiamato get windows 10 la differenza rispetto agli esempi precedenti è che questo processo non crea supporti fisici come un dvd o una pendrive e realizza il passaggio a windows 10 direttamente al termine del download e la verifica del file scaricato bene guter eccoci sul sito della macrosoft dal quale possiamo scaricare il file per poter creare il supporto di installazione prima di iniziare puoi visionare la lettura di una sezione dove puoi avere informazioni se hai tutto a disposizione e di requisiti per poter procedere nel passaggio a windows 10 dopo naturalmente aver scaricato questo file di installazione come puoi vedere in questa pagina la macrosoft ti mette a disposizione alcune note oltre allo strumento normalmente che potrai scaricare note che possono essere utili per comprendere alcune cose che magari spesso possono sfuggire durante questo processo che sarà relativo all'aggiornamento e soprattutto potrai visionare quali sono le tue versioni di competenze in base al sistema operativo che avrai attualmente installato sul pc oppure il modus operandi per poter creare un supporto usb o dvd per procedere appunto all'installazione che vedremo nelle prossime lezioni ora torniamo su e andiamo a cliccare sul pulsante per poter scaricare il file media creation tool cliccandoci sopra dopo qualche secondo avrai la possibilità appunto di scaricare il file che attualmente a 17 e 6 mb di peso puoi seguire il processo del download che durerà pochi secondi al termine potrai cliccarci sezz'altro sopra ed avviare il processo di creazione una nota ti potrà allettare che questo è un file eseguibile e potrebbe creare problemi ma tranquillo è un file della microsoft inizieranno le operazioni preliminari questo piccolo processo potrà durare anche qualche minuto dopodiché ti verranno proiettate le condizioni di licenza che puoi leggere anche se sono abbastanza lunghe al termine dovrai naturalmente accettare per procedere dopo un tempo variabile ma comunque breve avrai l'opportunità di scegliere l'operazione da effettuare o aggiornare il pc direttamente oppure come in questo caso creare un supporto di installazione per un altro pc non ti preoccupare anche se devi installarlo su questo o su un altro pc seleziona questa opzione poi clicca su avanti nella pagina successiva è già tutto predisposto lingua il tipo di installazione e l'architettura quindi se vuoi installarlo su questo pc puoi anche lasciar tutto selezionato come mostrato altrimenti puoi togliere il segno di spunta da usa impostazioni consigliate per questo pc ed eseguire una selezione che meglio credi dopo aver cliccato su avanti una nota ti allerta di controllare di verificare se appunto le selezioni che hai impostato in questo ultimo caso sono corrette clicca su ok altrimenti annulla e sostituisci le opzioni ora puoi decidere se creare un'unità flash usb oppure creare un file immagine che andrai a salvare sul tuo pc seleziona il file immagine e scegli dove salvare il file stesso magari sul desktop per praticità a questo punto inizierà il download del file con un tempo variabile e non preventivabile al termine del download verrà eseguita una verifica del file anche qui il tempo è abbastanza variabile a questo punto partirà il vero processo di creazione del supporto nella fattispecie il file immagine file iso a questo punto il processo è terminato potrai masterizzare direttamente il file immagine cliccando su apri il masterizzatore integrato in windows oppure cliccare su fine per terminare il processo di creazione del file immagine cliccando sul primo link potrai visionare dove hai scaricato il file immagine qualora non fosse presente sul desktop naturalmente cosa che in realtà durante questo processo abbiamo eseguito se invece vuoi creare una pendrive di installazione quando sarà il momento ovviamente verifica che sia selezionata unità flash usb naturalmente se hai collegato una pendrive di almeno 4 gigabyte nella pagina successiva potrai verificare che il sistema abbia individuato la pendrive e dopo clicca su avanti anche in questo caso partirà il processo di download dei file che verranno installati sulla pendrive dopo la verifica dei file appena scaricati verrà iniziato il processo di creazione del supporto di windows 10 sulla pendrive la quale verrà formattata quindi esegui eventualmente prima un backup dei file che conterrà questa pennetta quando il processo di creazione del supporto sarà terminato avrai mostrata la schermata che indica che l'unità flash è pronta all'utilizzo a questo punto questa pendrive sarà resa avviabile e potrà essere impiegata per installare windows 10 aggiornare lo stesso su pc o installarlo su un altro pc compatibile con quanto hai scaricato potrai visionare i file presenti nella pendrive cliccando sul pulsante mostrato a schermo e visionare che il contenuto appunto nella pendrive sia presente cliccando su fine verrà inviato un processo di pulizia dell'installazione appena eseguita e al termine sarei pronto o sarei pronta per l'installazione bene ora vediamo il modo più semplice per scaricare un file immagine regati a questo indirizzo indirizzo che pubblicherò nelle note dell'episodio scorri nella pagina e troverai verso il basso la modalità per poter scaricare le versioni 32 o 64 bit in formato ISO seleziona innanzitutto l'edizione di norma è windows 10 come puoi notare il file che scaricherai potrà andare bene sia per installare la versione windows 10 home e windows 10 professional la discriminante naturalmente la farà il sistema operativo che già avrai installato o eventualmente il product key che andrai ad inserire qualora eseguissi un'installazione pulita dopo aver selezionato il sistema operativo clicca su conferma avverrà una richiesta di validazione dopodiché scegli la lingua di supporto al sistema operativo naturalmente italian una nuova conferma sarà necessaria a questo punto nella pagina troverai due pulsanti per poter scaricare la versione a 32 bit o 64 bit del windows 10 che avrai selezionato da notare che questi link saranno validi per 24 ore clicchiamo supponiamo sul pulsante 32 bit a questo punto vediamo che andremo a scaricare il file windows 10 la versione 1511 l'attualmente presente sui server della microsoft con un peso di 2,7 gigabyte a questo punto cliccando su ok inizierà il download download che può variare in base alle capacità della tua banda e del tuo hardware e software installato potrai cliccare in base al browser la visualizzazione di dove andrà a scaricarsi questo file e quindi individuare nel percorso download di questo specifico browser dove potremmo visionare appunto il file che si sta scaricando finché lo potremmo utilizzare e masterizzare su dvd oppure grazie a software di terze parti installare su una pendrive rendendola avviabile al termine del download otterrai soltanto questo file e questo sarà quello che dovrai utilizzare per la tua installazione ecco appunto il file che dovrai utilizzare per essere masterizzato su dvd bene nella prossima lezione ti spiegherò appunto il processo di aggiornamento a windows 10 partendo dal tuo sistema operativo ora forte saluto ciao a presto da cari dalla prossima